Siamo arrivati a destinazione, siamo in Veneto, principalmente nella provincia di Rovigo, siamo ad Adria, dietro di noi lo spot dove gireremo il filmato la puntata di oggi di Predator Zone, siamo su un canale, è il canale di Loreo, quindi entra poi in un famoso campo gara poco più avanti di noi, per un video di street fishing.